Non vi convincono questi costi di gestione distribuiti sui comuni? Il Parco delle Robbie aveva una sua logica, fate le difficoltà per cui poi si è costituito. Poi si è trovato addosso tutta la normativa di Rete Natura 2000 della Comunità Europea, che la regione in maniera un po' approssimativa, tanto all'italiana, tanto non si farà nulla, l'aveva posto sulle nostre territori. Dicevo la maggior parte sul territorio della provincia di Bergamo e sulle prealpi aerobiche, quindi tutte le alte nostre valli, Val Brembana, Val Seriana e Val di Scala. Il problema è che questa normativa, per essere gestita, se l'è trovata addosso il Parco delle Robbie il compito di gestire questo. Quindi ci ha aggiunto a tutte le sue prerogative di parco di protezione tutte le normative europee, con delle procedure che sono farraginose, lunghissime, spesso contradditorie, spesso non vanno assolutamente nel favorire la permanenza dei cittadini in montagna. Siamo quasi ridotti agli indiani Sioux, cioè siamo una riserva. Tra l'altro la finalità, se poteva essere, almeno lontanamente anche positiva, dire favoriamo il mantenimento dell'ambiente, favoriamo la permanenza in montagna, sta ottenendo esattamente il contrario, perché le procedure lunghissime esigono poi dei costi, dei costi importanti di tecnici per dare dei supporti tecnico-giuridici alle richieste di trasformazione di ambienti, quindi stradine, accessi, anche impianti scistici, stradine di alta montagna. Cioè è tutto un discorso di richiesti di autorizzazione, spese enormi, lungaggini. Basta pensare alle centraline idroelettriche che impieghiamo due o tre anni a portare a casa le autorizzazioni. Quindi c'è tutto un discorso. In più, adesso ci troviamo che è stato cambiato lo statuto. Lo statuto di prima direi che non è cambiato di molto nella sostanza. Però se andiamo a leggere cosa c'è scritto, c'è scritto che, tanto per spiegare a chi non è addentro il parco delle robbie, il 25% la Val Brembana, il 25% la Val Serena, il 25% la Valle di Scavo, il 25% la provincia. Questi sono i quattro enti, inteso le tre comunità più la provincia, i quattro enti che fanno parte del parco delle robbie e che l'Assemblea e che in Assemblea sono rappresentati. Il discorso però cosa si pone? Si pone che se andiamo a guardare gli articoli dentro ci troviamo che il 25% dice l'articolo dello statuto è il territorio e la rappresentatività che però è anche rapportata al 25% dalla compartecipazione economica delle comunità locali. Cosa che prima non c'era, o perlomeno se c'era era passato abbastanza in silenzio. Questo cosa comporta? Comporta che noi ci dovremmo poi sobbarcare costi a carico delle nostre amministrazioni per gestire delle procedure amministrative per giustificare la nostra presenza, i nostri lavori in montagna, le nostre opere, le nostre attività in montagna, attività di trasformazione dell'ambiente. Bene, noi abbiamo detto che se loro pensano che, almeno per quanto riguarda la Val di Scalve, ma presumo che faranno così anche gli altri, se loro pensano che noi ci mettiamo anche solo un euro, non un euro per abitanti, un euro in tutto, beh, ho detto in assemblea che noi faremo 5 delibere, uno per ogni comune della Val di Scalve e uno per la comunità montana, dichiarando il nostro volere di uscire dal parco delle robe e briega masche. Punto.